Daniele, la statistica ricalcherà il trend degli ultimi 5-10 anni nonostante il quadro di incertezza internazionale? È una bellissima domanda questa Daniele, tieni presente che il franco svizzero beneficia dell'incertezza internazionale proprio perché assieme all'oro e al dollaro è comunemente chiamato bene rifugio, quindi quando c'è incertezza, guerra e paura nel mondo tendenzialmente i grandi investitori parcheggiano della liquidità in franchi svizzeri proprio perché la Svizzera, lo sapete meglio di me, è considerata una nazione molto stabile.